Abbiamo lasciato un paio di minuti in più a causa di Alvaro Calamanti. Fabio Caffetani, io lo conosco, abbiamo fatto delle battaglie in cui ci siamo schierati entrambi nei confronti di un civile oppesatore che era una provincia marchigiana, non la cito ovviamente, e ora saluto Fabio con questa musica un po' marziale. Grazie a tutti. Bene, la proiezione non è al meglio ma non dipende da me. Sono botanico, ormai da molti anni faccio attività di ricerca e insegno alla facoltà agraria dell'Università Politecnica delle Marche e quindi purtroppo da naturalista mi sono dovuto occupare dei problemi anche dell'agricoltura. Non sono dovuto perché è un aspetto abbastanza pesante, è un tempo abbastanza pesante. Tutto ora, insomma, alcune problematiche sono immerse da questi primi interventi sono già abbastanza illuminanti su un problema grave che colpisce tutto il sistema produttivo in un solo italiano e in un solo italiano. purtroppo sono altri pochi che si occupano di andare a vedere che cosa succede perché dire che si fa agricoltura sostenibile è una cosa priva di ogni concretezza e quindi occorre che qualcuno si faccia, si prenda questo carico. Ora, fare questa relazione in dieci minuti sarà difficile però cercherò di utilizzarla il più possibile ma dove arrivo finiamo, evidentemente se sono argomenti che trattati troppo superficialmente potessero essere approfonditi potremmo farlo eventualmente nelle domande del contributo. Lascio rapidamente le parti scritte perché appunto se no non arrivo in funghi. Purtroppo appunto la biodiversità in Italia è un termine che si usa molto, si ne abusa anche ma di cui appunto non c'è conoscenza, non c'è misura, non c'è osservazione, non c'è una base. Noi siamo al terzo settennato dell'applicazione della politica agricola comunitaria cui uno dei pilastri più importanti riguarda le misure agroambientali e la domanda che sistematicamente a ogni fine ciclo Europa ci fa è dopo sette anni di applicazione dei finanziamenti dell'Unione Europea per le misure agroambientali la biodiversità è aumentata e la biodiversità è poi rimasta dal quale. Non c'è una regione italiana che ha impegnato, creato un sistema di osservazione almeno di aree campioni, non dico di tutto il territorio perché sicuramente è un'opera ciclopica, difficile da fare ma aree campioni dove valutare che cosa sta succedendo. Ora non me la faccio conta perché appunto purtroppo io queste cose le faccio quasi sempre con i miei studenti, con le attività di tesi, quasi mai riesco ad avere i finanziamenti dal ministero, dalle regioni, dalle comunità locali perché c'è un grande disinteresse, una grande poca conoscenza, diciamo ignoranza di questi problematiche e io non perdo l'occasione per trasmettere quelle che sono le informazioni che io ho, quindi salterò alcune informazioni. Intanto vabbè, una panoramica su quello che sta succedendo nei nostri paesaggi che sembrano molto belli, armoniosi, colline dolci in realtà se si va a vedere con attenzione si vede che appunto i nostri paesaggi sono veramente molto maltrattati, molto maltrattati. C'è un abuso di fitofarmaci e una conseguente ferita diversità. Noi siamo il paese con più elevato consumo di prodotti fitosalimentari e questo appunto è documentato non solo dai dati di acquisto, di utilizzazione ma anche dai dati su residui. Il più innocuo delle sostanze, il glifosale, un diserbante totale perché c'è tutte le piante verdi, è praticamente presente nelle acque che dovrebbe essere immediatamente o rapidamente degradato in ambiente, sul terreno e non è che dal 2010, dal 2008 fino ad oggi, tutti gli anni è sistematicamente misurato sulle acque superficiali come l'inquinante più abbondante presente sulle acque che corrono in superficie. Questo poi lo vedremo anche con alcuni aspetti, diciamo, di ricadute negative per la nostra salute anche se questo non è il mio tema, però appunto ne dichiarò solo una piccola parte della mia relazione. Quello che però appunto è avvenuto è che appunto chi si ha una carenza vistosa di biodiversità e nessuno se ne preoccupa perché è come se fossero appunto, ecco, tanti avviari se abbiamo parlato di avviari non documentati che muoiono, crescono, si creano nessuno lo sa e nessuno si preoccupa. Considerate che noi le api le controlliamo perché abbiamo un interesse almeno chi arriva ha l'interesse, naturalmente chi usa il miele ha di suo anche un interesse utilizzato. ma quanti insetti muoiono di cui noi non sappiamo neppure l'esistenza ma ci si rende conto di che cosa significa utilizzare tante sostanze chimiche e vi dico appunto il disepo è quella più considerata almeno, più innocua ma ci sono tutti gli insetticidi che soprattutto vengono utilizzati nei pianti fruttifei nei vitigni, alborelli della frutta, eccetera che hanno un impatto diretto anche su noi, non solo sulla favola. Ecco, qualche esempio di quello che è successo, l'uso eccessivo di riservanti ha portato alla completa vendita di una grande quantità di flora che, pensate, per più di 20.000 anni ci ha accompagnato, accompagnato i nostri grani, la nostra coltivazione del grano e abbastanza abbastate poche decine di anni per farle completamente scomparire. Qualcune delle specie che ormai vediamo solo in qualche raro campo coltivato ancora tradizionalmente nelle zone pedemontane. Non è tutto il dettaglio perché sono veramente tantissime. La nostra regione e molte altre regioni di quest'antidriacchia che hanno una struttura analoga dalla Romagna fino al Molise, praticamente è divisa in due metà e poi appunto l'ho collegato un po' anche alla diversità dei miei, io ho studiato i miei delle marche attraverso i pollini e le piante colegate che era per una DOP che è un progetto del 2003-2004 che poi non è andato a buon fine e che divide appunto le marche in due zone che sono separate da quella linea tratteggiata gialla che divide le zone interne montane da le zone collinari di Fondovalle e Costiere. Ebbene, tutte e due le zone hanno avuto negli ultimi decenni una grave perdita in diversità ma pensate per due motivi di avvenimenti opposti. Nelle zone collinari praticamente la piersia viene eliminata fisicamente per cancellazione degli ambienti non produttivi, dei margini non produttivi. Nelle zone interne avviene invece per l'abbandono, per l'abbandono delle attività tradizionali dove i clienti in primo piano hanno determinato una grave, e stanno determinando una grave perdita in diversità. Adesso sul dettaglio di queste cose ho molte slide quindi andrò velocemente quindi scusatemi se non sarò preciso su questi elementi. Questo per esempio è la modificazione del paesaggio montano, questa è una serie di studi che abbiamo fatto proprio sul dinamismo dell'abbandonazione, nei prati abbandonati sia che si tratta di una prateria abbandonata o di un campo perché nelle zone con le montagne c'era anche una piccola, modesta agricoltura, ma comunque importante e in pochi anni, una ventina, trent'anni, praticamente si ricostituisce l'ambiente forestale. E non significa un vantaggio, attenzione perché molti naturalisti hanno letto questo e dicono vabbè avremo più boschi, ma intanto perdiamo un valore ambientale ed economico che sono le praterie irripetibili, anche per tutto quello che ci siamo detti sulla qualità dei prodotti tradizionali, utilizzati ai formaggi, ai capri di animali arrivati che sono varietà, specie locali, rare e che stanno scomparendo. E poi appunto avremo boscaglie di subadone naturalistico che appunto fanno perdere notevolmente di diversità delle zone montagne, questi sono aspetti appunto di praterie ormai più utilizzate e in fase di diffusione degli arbusti e quindi sono fasi lunghissime, tutte fasi in cui non si possono tornare dietro, cioè la prateria non è più recuperabile, quindi non abbiamo più le praterie e non abbiamo ancora boschi, sono boscaglie di nessun interesse naturalistico ambientale ed economico peraltro, quindi significa anche una perdita di potenzialità economiche che per le zone montane noi adesso non le consideriamo perché appunto sono marginali, è un'economia marginale, ma potrebbe essere, anzi sarà sicuramente per il futuro, se ci sarà un futuro importante. Il paesaggio culinare, questo è il paesaggio culinare disegnato, ma avevo raccolto anche delle foto, poi mi sa dimenticato di metterle, è una ricostruzione del paesaggio degli anni 50, fino agli anni 50 e questa è la stessa situazione come oggi, è importante questa situazione perché appunto molti giovani non hanno neppure ricordi di come poteva essere il paesaggio rurale, la vita, il modo di produrre, di coltivare fino agli anni 50, cioè fino all'era della chimica, finché non è entrata la chimica e anche i mezzi meccanici, ma sicuramente la chimica è quella che ha deflagrato tutto il sistema produttivo. facciamo due, perfetto. Questo è il paesaggio fotografico attuale che rappresenta. Vado rapido, queste sono foto fatte su studi di dettaglio su aree rurali della nostra regione. Ci sono gli effetti? Il diserbo viene fatto non solo nei campi, non solo nelle aree marginali da lì fuori dei campi. Molte ricoltori pensano di spagnare tempo e lavoro facendo diserbo le scarpate. Questo è diventato addirittura una tecnica per un ente pubblico, una provincia che addirittura fa questo sistematicamente ormai da 2010, quindi ormai da 5 anni. Purtroppo anche il cattivo uso dei fiumi, in anni che abbiamo avuto quest'anno la risonazione, che purtroppo hanno dato la stura a questi appetiti di intervento sui fiumi di tipo meccanico che rendono ancora più fragili queste strutture e ci spongono ancora a danni ancora più gravi. Però stranamente non riusciamo a uscire da questo circolo vizioso. Questa è una foto che ho fatto a un allevatore, a un apiario, che ho fatto il diserbo prima di cominciare l'attività primaverile. Io penso che non ci possa essere nessun commento a queste immagini. Questo è quello che vi dicevo prima, gli eservanti noco e il glifosate, ecco guardate, è AMPA, che è l'acido di degradazione del glifosate e il glifosate stesso, sono al primo posto nelle sostanze impinanti trovate sulle acque superficiale. E queste sostanze, vabbè, lascio perdere, ecco, comunque in America dove se ne fa un abuso perché si fanno coltivazioni di UCM, hanno visto che il glifosate è entrato nella catena alimentare e l'immagine è di un articolo americano che denuncia come tre mamme su dieci che allattano hanno un percentuale di glifosate, misurabili, nel proprio latte. E questo, pensate che cosa significa nella vita di una persona? Noi siamo arrivati ad avere, diciamo, un impatto con la chimica da adulti, parlo di persone, insomma, della mia età, abbastanza mature, ma chi lo fa, chi ha questo impatto, sin dalla giovane età, addirittura dallo stato embrionale, ha grossi problemi di trasformazione del proprio sistema, delle risposte, del proprio sistema endocrino, che viene quindi tutto il sistema di produzione ormonale, che è il sistema di controllo del nostro organismo, viene completamente alterato, si chiama, appunto, interferenti endocrini, tutte queste sostanze chimiche che noi utilizziamo nei campi e che ce li troviamo poi attraverso i cibi nel nostro piatto. Ho fatto tantissime iniziative, ho fatto anche molte attività di ricerca, siamo alla fine. Va bene, queste sono le... scusate, questo volevo indicarci un attimo. Le piante possono darci tante cose, anche indicarci che cosa succede intorno a noi. Per esempio, un campo abbandonato viene invaso dalla crespina, non so se qualcuno la conosce, una pianta ottima da mangiare, ed è quindi un indicatore di un campo abbandonato da non più di due o tre anni. Se troviamo carote sempatiche, invece, significa che l'abbandono è stato molto più lungo, siamo arrivati anche a dieci, quindici anni. Se troviamo l'elula in una viscosa, che è appiccica le foglie, che sta per cominciare a fiorire, adesso fiorirà proprio all'inizio dell'autunno, è questo l'indicatore delle periferie urbane, perché significa che sono almeno una ventina d'anni che il campo non viene più utilizzato e viene invaso da queste piante, e queste sono quindi appunto dove contraddistinguono le zone che ancora si aspettano di poter edificare per le zone delle periferie urbane. E infine abbiamo le praterie intorno alle case coloniche, con l'aluncoli, che non è sempre più bravi, e le praterie vere e proprie, quelle che troviamo in montagna con le orchidee e le gravinacee che le contraddistinguono. Poi lungo le strade troviamo bellissime, quando che non vengono alterate, formazioni di leguminose, di l'amiacee che appunto ci indicano come fasi vicine al bosco, che sia vicino al bosco, fino all'orlo forestale, quindi con la pervica, che si contraddistinguono proprio le immagini del bosco. e vi saluto tantissime cose, anche sugli studi sul deflusso, perché appunto, però appunto sono situazioni abbastanza gravi, ecco, queste sono state misurate sul terreno, tutta l'ideografia minore viene completamente cancellata durante le lavorazioni, e questo, diciamo, rispettando le norme di accesso ai fondi europei, quindi tutta legalità, e lascio da parte, tutto quello che sarebbe il prossimo PSR, e gli studi di etnobotanica, di sfruttare, ah, ecco, un progetto interessante, al parco del Collero, finisco con questa, almeno una nota positiva, perché se no, effettivamente, lasciarci domenica mattina, un quadro così disolante, che sarebbe un po'. Ecco, al parco del Collero sono riuscito a far passare un progetto finanziato dalla regione, dopo lunga e penosa malattia, però appunto in cui una decina di aziende biologiche, adesso appunto, si sono impegnate a conoscere, raccogliere e mettere a disposizione dei ristoranti, dei miei turismi della zona, appunto le piatte spontanee che crescono nel loro ambiente, mi conoscono e sanno che cosa significa lasciare un polimento in erbito, che cosa significa lasciare una scappata, una fascia erbosa non utilizzata e seguire che cosa ci cresce, che cosa può essere utile. L'unica eccezione sarà per il facca sassi, chi lo conosce appunto è finocchio marino, una pianta di cui si utilizzano le foglie carnose, come anche come sottacelli, come ottimo piatto del parco del Conor, la zona del Conor, perché cresce in zone, non nelle aziende, le zone naturali del parco, quindi è l'unica pianta di cui daremo, come orto botanico, proprio piantine da mantenere e utilizzare per la raccolta delle foglie. Sono tantissime specie raccolte, salto tutto quello che ricordava il miele, che tuttora era un lavoro che abbiamo fatto qui per, che ho presentato proprio nel 2003, qui a Montelupone, e poi nel 2004 all'Assam, al settore laborichimico di Iesi, purtroppo non è andato a buon fine, ma i risultati di quello studio possono essere ancora utili per il futuro del biene del martigiano. Grazie.